Questa immagine è fortissima, secondo me. Questa immagine fa capire che tutto quello che era stato prefigurato nella pianificazione in epoca fascista, in realtà non si attua. La città è ancora abbastanza dentro al suo esagono. Questa bomba che cade, che è l'idea della guerra, la conclusione della guerra, ma è anche la bomba che fa poi esplodere la città fuori dalle sue mura. Quello che succede poi, nel dopoguerra, è tutta l'epoca della ricostruzione. Cioè letteralmente tutte le città esplodono per l'urgenza della ricostruzione e la quantità di interventi edilizi. Tutto questo va pianificato. Questa è un'immagine della mostra, dell'allestimento di Franco Albini, cioè l'allestimento stesso di Franco Albini del piano di ricostruzione prefigurato dello stesso Albini.